Questo è un racconto su Commissione scritto da Thomas Caretto, uno dei miei sostenitori, e ci tengo molto a ringraziarlo. Invito inoltre chiunque volesse aiutarmi a visitare i link in descrizione, per potermi aiutare economicamente o per chiedermi un lavoro su Commissione a loro volta. Buon ascolto. La pioggia cadeva insistente da tutta la mattina. Un uomo dai capelli biondo cenere entrò nel caldo chalet. Non sembrava turbato per l'acquazione, era infatti abituato a prendersi la pioggia. Anzi, proprio gli piaceva il brutto tempo, seppur quello non fosse uno di quei temporali dal cielo oscuro come la notte in cui i lampi illuminano a giorno penetrando le tenebre. L'uomo si tolse i pesanti stivali, si aggiustò i calzini e i pantaloni. Si sedette su una comoda poltrona e pose i piedi vicino a una stufa. Non aveva freddo, ma gli piaceva il senso di tepore che la stufa emanava. Così come quando accese il fuoco nel camino non lo fece per il calore, ma per la luce giallo-ocra che la fiamma irradiava. Finito di armeggiare col caminetto, si sistemò sulla poltrona in pelle. Fece roteare fra le dita un bicchiere ottagonale. Osservò per un poco il superalcolico color ambra e le onde che formava nello scuotere il bicchiere di cristallo. Egli beve un lungo sorso di liquore, quindi posò il bicchiere su di uno sgabello lì vicino. Guardò fuori dalla finestra e sorrise. Il cielo era grigio chiaro e la pioggia così fitta che non la si riusciva a vedere. Non sembrava proprio un giorno adatto per un cacciatore. Ma per lui ciò non valeva. Infatti non si trattava di un cacciatore come gli altri. La sua era una caccia diversa. Lungi dall'uomo essere un bracconiere, già, le sue erano prede fuori dal comune. Molti avrebbero detto che la sua era un'attività illecita, ma lui non la vedeva così, poiché non vi era alcuna legge che vietava la caccia ai mostri. Proprio così. Egli non cacciava animali come cervi, caprioli, cinghiali o lepri, bensì dava la caccia a orchi, vampiri, lupi mannari e qualche volta golem o addirittura demoni. Anche se questi non li ammazzava, limitandosi a rispedirli da dove erano venuti. Seppure il cacciatore fosse ignaro, se esistesse davvero l'inferno o qualcosa del genere. Non era un esorcista, né un prete, e neppure uno di quei fanatici che si credevano dei salvatori del mondo. No. Anzi, alle volte era pure scocciato di dover andare a caccia di mostri, ma certe altre, come quel giorno, quasi ci trovava gusto. Oltretutto era sveglio da prima dell'alba e seppur ne sentisse la presenza, non era riuscito ad avvistare neppure uno di quei suoi cari amici ultraterreni. Si erano fatte le undici e mezzo del mattino. Il cacciatore non aveva fame. Cosa strana per lui. Pensò così di uscire nuovamente. Era una splendida giornata per la caccia ed egli riteneva che un po' di moto gli avrebbe ridestato quel suo solito languore. Così. Pensò aprendo la porta dello chalet. Forse gusterò appieno lo stufato di cervo che mi aspetta. Il cacciatore sorrise. Si sistemò il bavero della sua giacca mimetica e il fular che gli cingeva il collo e quindi uscì. Dopo pochi passi lungo il vialetto di ghiaie e ciotoli che portavano dallo chalet a limitare del bosco, il cacciatore passò la mano sul cinturone. Nella cartuccera aveva, oltre a quelle normali, cinque pallottole, la cui punta era stata fatta con argento purissimo. Non aveva avuto segnalazione di mannari in quel periodo, ma egli non preferiva rischiare. Inoltre tale metallo non serviva solo a sistemare quei muta forma, ma era altrettanto efficace per certe altre creature più o meno notturne. Ecco ciò che cercava. Sulla fanghiglia, dove tra roccia e roccia restava del terreno nudo, erano impresse orme di zoccolo. Erano troppo grandi per appartenere a un muflone. Di certo nessun bue andava a pascolare in un posto così in profondità nel bosco. Con un sorriso ancora più marcato, l'uomo si mise a seguire le tracce che salivano nella direzione opposta al torrente che scorreva una trentina di metri sulla sua sinistra. Il cacciatore era abituato a certe scarpinate fuori pista. Seppur il terreno fosse franoso, l'esperto uomo dei boschi proseguiva il cammino, facendo perno con i piedi sulle rocce più stabili e meno vischiose per la pioggia. Le impronte che seguiva avevano svoltato improvvisamente verso valle, puntando al fiume. Questo era il tipico sistema di marcia della preda che il cacciatore stava pedinando. «Ecco, impronte fresche!» esclamò il cacciatore. Non era riuscito a trattenere quel grido di gioia, ma sapeva che il tono era stato abbastanza contenuto da non rovinare la sua caccia. Nel folto della macchia, la pioggia era quasi inesistente, trattenuta e filtrata dalle folte chiome degli alberi. Il cacciatore guardò il cielo, quindi si acquattò, sfiorando la guaina contenente il lungo coltello allacciato poco sopra il suo anfibio destro. Ecco, sentiva sempre di più la presenza dell'essere a cui dava la caccia. Meno di un minuto dopo non percepiva solo la presenza, ma udiva pure il rumore provocato dalla sua preda. Non era il caso di rimanere lì allo scoperto, nella piccola radura coperta da un tappeto di foglie gialle e marroni. I piedi del cacciatore provocarono uno strano suono nel calpestare le foglie fradice di pioggia. A ogni passo gli pareva di correre su di un materasso soffice e bagnato. Nascostosi dietro un massiccio faggio, il cacciatore fece capolino per studiare la situazione. Entro breve, avanzò nella radura una creatura bizzarra e rumorosa. Era bipede, alta sul metro e sessanta. Il petto tozzo era ricoperto da una peluria scura e riccia, bagnata di pioggia e sudore. Le zampe, anch'esse grasse e forti, parevano quelle di un caprone di montagna, così come la barbetta e le voluminose corna sulla sua testa. Il cacciatore uscì dal suo nascondiglio con un grande sorriso stampato sulla faccia. Puntò il fucile su quello che i romani chiamavano fauno e i greci pan. Il fragore dei colpi esplosi rimbombarono per la foresta simili a tuoni. Come sospettavo! Le mie pallottole non gli fanno che il solletico! Esclamò il cacciatore, gettando il fucile con delicatezza, preparandosi alla carica del caprone. Lo scontro diretto era cosa assai comune quando si va a caccia di fauni. Il cacciatore rimase con le gambe parallele, leggermente piegate e braccia aperte, come per accogliere la creatura in un saldo a braccio. I fauni, come i mufloni, quando caricano non hanno modo di vedere dove colpiscono. Restano infatti a testa bassa e con le corna ricurve verso l'avversario e gli occhi fissi sul terreno. Questo il cacciatore lo sapeva bene. Aveva lasciato di proposito che il fauno prendesse bene la mira in quella direzione. Di scatto, il cacciatore saltò a destra, a circa un metro e mezzo di distanza, rotolando con una capriola sul tappeto di foglie bagnate. Il fauno cozzò contro un albero, il grande faggio che il cacciatore aveva usato come nascondiglio. All'impatto, all'impatto, grandi schegge di corteccia volarono in ogni direzione. Le robuste corna lasciarono delle impronte ben marcate sul legno scorticato del faggio. Il fauno non parve troppo scosso per l'impatto violento, come se fosse abituato a simili scontri. Il cacciatore si era già rialzato, pronto anche egli al secondo round con il fauno. Lo sfotté, intimandogli di attaccarlo. I piccoli occhi furbi della creatura brillarono di una luce selvaggia, ma non stupida. Pure il cacciatore aveva uno sguardo acceso, calcolatore, ma al contempo provocatorio. La creatura non si fece ripetere l'invito di attaccare e preparò la carica, ben attento che non ci fossero ostacoli dietro il cacciatore. Questi, stavolta, non si era curato di porsi davanti a una roccia o qualche altro trabocchetto, sapendo che una trappola come quella appena adottata non sarebbe stata efficace una seconda volta. Non appena il fauno gli fu troppo vicino per cambiare direzione, il cacciatore saltò di lato, schivando la testa caprina della creatura. Senza troppo sconvolgersi, il cacciatore estrasse il coltello dalla guaina in pelle nera e ne affondò la larga lama nel collo del fauno. La punta a guzza dell'arma urtò, scheggiando la colonna vertebrale del fauno. Afferratolo saldamente per le corna ricurve, il cacciatore spinse ancora più a fondo il coltello. Esso penetrò nelle carni dure della creatura Silvana, che gemette di dolore non appena la lama gli troncò di netto alla spina dorsale, fra le prime due vertebre. «Perdonami se ti ho fatto male, ma non avevo altra scelta!» Sussurrò con tono di scusa il cacciatore. Poi, senza mostrare alcun sentimento, come se quella che stava per compiere fosse una normale azione di routine, il cacciatore tracciò un invisibile segno sopra la nuca del fauno, rimasto carponi. Nel punto dove l'uomo aveva passato l'indice, restava una scia, simile a nebbia fosforescente. Estratto il coltello, la ferita scomparve, come se non ci fosse mai stata. Il corpo tramortito del fauno, il quale non era morto, si volatilizzò in una nuvola di vapore. Rialzatosi e raccolto il fucile, il cacciatore fece per tornare a casa, quando un brivido gli percorse la schiena. Non era il freddo. Quel brivido era una sorta di scossa elettrica che scendeva lungo tutta la spina dorsale dell'uomo, vertebra per vertebra. Il cacciatore si guardò intorno, scelse una direzione e, seguendo il suo istinto, prese a camminare con passo deciso. Dopo una decina di minuti, o forse un quarto d'ora, l'uomo si fermò di colpo. La sua sensazione era scomparsa. Alle volte accadeva che il suo allarme interiore segnalasse una presenza per interrompersi d'improvviso. Al cacciatore non importava un gran che se il suo radar rivela mostri avesse o meno un raggio d'azione o se questo potesse in qualche modo variare. Beh, se il mio sesto senso ne ha condotto fin qua e poi si è placato, una ragione ci deve pur essere. Affermò fra sé a mezza voce. Perlustrò la zona intorno fino a quando non trovò qualcosa. O meglio, qualcuno. Si trattava di una ragazza. Era riversa a terra sul tappeto di foglie come se fosse caduta nel correre a perdifiato. Il cacciatore ipotizzò che fosse stata inseguita da qualche essere della foresta, come il fauno che aveva appena spedito in un'altra dimensione. Ma qualcosa dentro di sé gli diceva che non era così. Il cacciatore scosse la ragazza accertandosi che non fosse morta o ferita. Apparentemente era inlesa. Seppur cadendo, doveva aver sbattuto la testa, svenendo. L'uomo decise di portarla al suo chalet e lì avrebbe preso provvedimenti. Il cacciatore, con delicatezza, issò la ragazza in spalla e prese a camminare. Egli era abituato agli sforzi, seppur non fosse propriamente un energumeno. Giunto all'abitazione di legno e pietra, tirò un sospiro di sollievo. Benché la ragazza fosse magra, il cacciatore di certo faceva piacere togliersi il suo peso dalle spalle. Aperta la porta, la spalancò col piede. Portò la ragazza vicino al camino e la distese sul pavimento. Spogliatosi della giacca inzuppata dall'acqua piovana, il cacciatore si stiracchiò. Doveva togliere gli abiti bagnati dalla ragazza, ma temeva per le conseguenze al suo risveglio. No, doveva prima ridestarla. Provò a squatterla, ma non servì a nulla. Allora le aprì un poco la cerniera del maglione a collo alto color turchese, quindi le asciugò il collo e il volto pallido. La ragazza aveva allineamenti scandinavi. I lunghi capelli biondi si appiccicavano alle guance fredde e umide della ragazza. Il cacciatore, preso da sentimenti d'affetto, la carezzò, sussurrando le parole dolci. Dai, apri gli occhi, i bei capelli. Sai, credo che tu debba avere uno sguardo meraviglioso. Ma come faccio a saperlo se non apri le valpebre? Su, forza, svegliati. Il suo sistema parve sortire all'effetto desiderato. Per bacco, il metodo del principe azzurro ha funzionato. esclamò stupito il cacciatore. Inconsciamente si lanciò un'occhiata. Di principesco non aveva proprio nulla. Portava una maglietta a maniche lunghe, bianca, con sopra una t-shirt verde. Entrambe bagnate sotto le ascelle per la sudata compiuta nel camminare con la ragazza sulle spalle. Pure i capelli, come la barba incolta, erano bagnati. Le palpebre della ragazza sbatterono un paio di volte prima di aprirsi definitivamente. Lo sguardo assonnato, il rossore intorno all'iride e il sorriso innocente della fanciulla colpirono nel profondo il cacciatore, che provò un tuffo al cuore. Con tono per niente spaventato, seppur leggermente confuso, ella chiese «Dove sono?» «Sei a casa», rispose il cacciatore pacatamente. Entrambi avevano usato un tono come se i due si conoscessero da sempre e che la presenza di lei là fosse naturale. «Voglio dire che sei a casa mia. Non ti devi preoccupare». Riprese il cacciatore con tono l'assicurante, passandole delicatamente i polpastrelli sulla fronte imperlata di gocce d'acqua piovana. Lei afferrò la mano con un gesto rapido. La sua stretta era gelida e umida, ma si trattò di pochi attimi dato che retrasse immediatamente le dita affusolate. I due si osservarono. Gli occhi di lei non erano più arrossati. L'iride aveva un colore azzurro chiaro come il cielo dopo certi giorni di pioggia. Pure gli occhi di lui erano azzurri, ma avevano un croma più intenso, maggiormente sfumato di blu. Quei secondi o minuti che parvero un'eternità si conclusero. Lei sorrise innocente arrossendo leggermente alle gote. Appena i loro occhi si separarono, lui ruppe quell'atmosfera magica e pura. Vuoi qualcosa per riscaldarti? Ti preparo una tisana oppure un buon tè? Altrimenti ho un meraviglioso stufato di cervo. Lo metto subito sul fuoco. Lei divenne ancora più imbarazzata, declinando l'offerta. Ma devi prendere qualcosa. Il tono del cacciatore aveva perso la sua pacatezza, ma pur essendo alto e imperativo, aveva un non so che di dolce. La ragazza si alzò in piedi, sembrava una fata tremante. Tu devi cambiarti. Temo però di non avere degli abiti adatti. Affrettati a farti una doccia o prenderai un malanno. Guarda come trema la tua mano. Vieni, il bagno è di qua. Riprese con tono amorevole il cacciatore facendo strada, mentre la ragazza faceva una doccia bollente e gli si era cambiato i vestiti. Il cacciatore aveva adagiato degli abiti puliti per la ragazza sul letto. Si trattava di una vecchia tuta da ginnastica della cui esistenza il cacciatore si era scordato. Seppur avesse i suoi anni la tuta era stata usata così poche volte da sembrare nuova. Il cacciatore aveva quindi lasciato la stanza la cui porta era di rimpetto con quella del bagno. Finito il bagno la bella ragazza si era affacciata nel salone che faceva sia da salotto che da sala da pranzo. Appariva come la purezza fatta in persona. Il cacciatore era dietro ai fornelli quando si voltò e salutò la ragazza. Lei aveva ancora lo sguardo imbambolato e confuso nel sorridere di rimando. Si misero a mangiare senza però mai discorrere su cosa ci facesse quella ragazza nel bosco sola e svenuta. proprio quando il cacciatore glielo stava per domandare a fine pasto lei scosse la testa e disse scusami sono un po' confusa e ho bisogno di dormire. Il cacciatore non riuscì a dire niente se non prego è giusto che tu dormi vai a letto. Egli rimase pensieroso nella stanza generalmente luminosa non accorgendosi che l'imbrunire era prossimo e che le ombre della sera si allungavano sul bosco e nella stanza sempre meno illuminata. Anche il fuoco nel camino stava spegnendosi Così prima che la notte incombesse il cacciatore si addormentò sdraiato sulla comoda poltrona di cuoio marrone. Verso le 5 del mattino egli era già sveglio alla ragazza ci vogliono altre 6 o 7 ore di sonno prima di alzarsi dal letto era una di quelle splendide giornate di sole che seguono certe di pioggia intensa. Il cielo era azzurro senza nuvole ricordava gli occhi della ragazza così come il sole raggiante aveva il colore dei suoi bei capelli biondi. Un dubbio assillava il cacciatore un'incertezza che era rimasta nei suoi pensieri fino a quando si era addormentato la sera prima come doveva comportarsi con quella ragazza. Senti io iniziò appagato lei parve intuire la domanda che le stava per porre e portando l'indice sulle labbra del cacciatore disse non so sono confusa non ricordo niente perché sono qui e tu chi sei non me ne frega niente sento che ci si può fidare di te le sue labbra formarono il sorriso più bello del mondo pareva ancor più luminoso del sole che splendeva fuori dalla finestra con tono allegro la ragazza riprese sei un cacciatore vero? non lasciò tempo per una risposta che già aveva cambiato argomento senti hai saputo che ci sono le giostre giù in città andiamoci così dicendo aveva avvolto le lunghe braccia intorno al petto del cacciatore continuando ad abbracciarlo da dietro la schiena fece per continuare la frase ma lui la interruppe sì forse scusami non volevo usare questo tono oggi ho da sbrigare degli impegni vedremo di andarci stasera concluse con un sorriso affettuoso lei appoggiò la testa e la guancia sulla schiena del cacciatore con tono pacato e innocente chiese tu credi nella magia? a questa domanda il cacciatore trasalì lei si distaccò dalla sua schiena sorrideva lui si voltò e non riuscì a nascondere l'espressione di cruccio che si formò sul suo volto la ragazza sembrò voler cambiare discorso prese a roteare per la stanza cantichiando una canzoncina allegra dalle parole incomprensibili il cacciatore distese i muscoli contratti rilassandosi poi lei tornò all'attacco se non ci fosse una sorta di potere esp una chiaroveggenza o un sesto senso come farei a fidarmi di te lui lasciò cadere l'argomento scrollando le spalle prese la carabina e cortesemente si congedò scusami ma devo uscire bravo vai a prendere qualcosa da mangiare sembriamo già una coppia tu l'uomo di casa che si procura il cibo e io la tenera mogliettina che prepara con tutto il suo amore dei deliziosi manicaretti il cacciatore non diede il tempo di gettargliesi con le braccia al collo come era sua intenzione uscendo dalla porta dopo una mezz'ora di cammino il cacciatore intravide delle possibili prede sì erano prede normali un gruppo di caprioli pascolava in una radura un centinaio di metri da lui il cacciatore premette il grilletto si odì un boato quattro caprioli si dileguarono saltando in ogni direzione solo uno cade a terra con un tonfo dopo aver pranzato la ragazza e il cacciatore parlarono del più e del meno com'è che vivi qua nel bosco chiese lei un tempo abitavo in città mio malgrado ah che tono ti piace così tanto abitare in una foresta sì è così così silenziosa è solitaria ho il tempo e il modo di chiarificarmi le idee di di e poi ormai questa è la mia vita ho capito c'è di mezzo una donna già un tempo ci fu una ragazza la giovane fece cadere l'argomento il tono grave del cacciatore l'aveva rattristata giunse così la sera e come promesso il cacciatore accompagnò la ragazza in città erano in un vicolo buio fra imponenti grattacieli il parco giochi non distava molto da loro tanto che i due potevano udire la musica portata dal vento ancora non ti ho chiesto come ti chiami mio salvatore esclamò ingenuamente la ragazza voltandosi verso il cacciatore chiamami Will dopo una pausa di uno o due secondi egli riprese può essere l'abbreviazione di molti nomi William Wilbur oppure il cacciatore tacque e dopo aver atteso per breve tempo proseguì con tono lento quasi di sfida che cosa ne dici di Willow la ragazza trassalì senti fece lei con candore ripresasi dalla sua aria imbambolata so quello che vuoi dirmi la interruppe bruscamente il cacciatore la ragazza parve non aver udito la frase un tempo usavi una spada anziché un fucile constatò con un sorriso sornione un tempo portavi i capelli più corti rispose con tono freddo e graffiante il cacciatore come quando riprese ma ti ho riconosciuta lo stesso lei ammiccò scuotendo la testa di sé dolcemente non sei cambiato affatto neppure tu in fondo ricordi un tempo ti chiamavo bei capelli la ragazza fece una piruetta la sua chioma bionda parve risplendere di luce propria perché sei tornata o forse dovrei chiederti dove sei acquistata tutto questo tempo il cacciatore aveva un tono malinconico e al contempo irritato caccio creature come te da quando avevo 14 anni adesso ne ho 32 credi che non mi sarei accorto della tua presenza volevo metterti alla prova ah sì volevi giocare con me come facesti 8 anni fa e quanto durerà questa volta la sua voce era rotta quasi in pianto quando riprese io ti amavo e ti ho continuato ad amare finora anch'io no taci battene ringrazia che te ne dia la possibilità lei sorrise era un misto tra il sarcastico e l'intrigante con voce dolce e malinconica il cacciatore riprese rammento i tuoi occhi simili a due stelle i tuoi capelli splendenti come oro ma soprattutto i tuoi canini di vampiro a queste parole lei sorrise mostrando i denti candidi e aguzzi ti ricordi ci amavamo davvero o almeno così io credevo io odiavo la città ma per te restavo qua ogni venerdì sera si andava alle giostre del luna park perché ci sei voluta tornare perché anch'io ti amo non fartelo ripetere ricordo benissimo la tua bellezza i tuoi occhi splendenti i tuoi capelli profumati ma anche la tua piccola verità e le tue sottili menzogne conosco bene la tua mano lesta ma tremante i tuoi trucchi quindi non piangere asciuga le tue lacrime e vattene ho visto la luna scarlatta simbolo del tuo clan la tua antica cicatrice ma soprattutto quei canini affilati come uno stiletto ammettilo ti piaceva quando ti mordevo lo adoravo concluse il cacciatore con tono nostalgico mentre si voltava per sparire nell'ombra del vicolo pretty hair il vicolo era immerso nell'oscurità un giovane inseguiva agilmente una strana creatura simile ad un mastino nero con sei zampe nonostante fra loro vi fosse un notevole distacco il ragazzino raggiunse l'essere che ormai sfinito non riusciva più a correre il giovane sorrise aveva allineamenti dolci aprì un lungo giaccone imbottito e ne strasse una spada a doppio filo con un movimento lento ma deciso disegnò nell'aria un cerchio e alcuni segni cabalistici la creatura ringhiò ma smise non appena provò una sensazione di torpore a entrargli nelle ossa così sorridendo di piacere la bestiola scomparve in un vortice luminoso e anche questa è fatta esclamò il ragazzo detergendosi il sudore che gli imperlava la fronte il giovane aveva 24 anni e ne erano passati più di 10 da quando aveva iniziato a dare la caccia a creature di altre dimensioni che per sbaglio volutamente si trovavano nella sua camminando lentamente fra i grattacieli grigi tornò all'auto odiava il traffico le luci dai mille colori la confusione l'aria insana insomma la città nel suo insieme erano le 3.40 e finalmente poteva andare a letto il mattino seguente si alzò con un terribile mal di testa conosceva fin troppo bene quella sensazione di nausea poteva facilmente interpretare il ronzio che gli riempiva le orecchie tutto ciò era dovuto all'avvicinanza di qualche creatura extraterrestre il ragazzo guardò l'orologio le lancette segnavano le 9.15 il giovane sbuffò ma il dolore alla testa era troppo forte e da 12 anni sapeva che non sarebbe servito a niente neppure il più forte degli analgesici deciso di farla finita al prima possibile fece una doccia si sbarbò e uscì era il suo istinto a guidarlo non sapeva come o perché ma se si lasciava guidare dai suoi piedi senza pensare a quale direzione avesse preso si sarebbe trovato di fronte a un essere ultraterreno con suo grande stupore la nausea e il dronzio scomparvero e come sovrappensiero proseguì il suo errare improvvisamente urtò contro qualcosa ma guarda dove metti i piedi si lamentò una voce femminile nonostante il tono irritato era facile intuire che chi aveva parlato aveva un animo delicato il giovane alzò lo sguardo guardando in faccia la più bella ragazza che avesse mai visto aveva occhi azzurri più del cielo primaverile capelli con un taglio sbarazzino a caschetto la ragazza sembrava accettare le scuse del giovane distratto che non si era neppure accorto di aver parlato tanto era incantato dalla bellezza della ragazza contro la quale si era scontrato ancora in uno stato catatonico egli chiese vuoi venire a casa mia? pretty hair ah e ci provi pure? va bene sorrise sbarazzina a lei come scusa? chiese timido il ragazzo ma lo sai che sei strano ho accettato il tuo invito allora dove abiti? così dicendo la ragazza allungò la mano affusolata verso il gomito piegato del ragazzo e a braccetto si incamminarono verso casa di lui egli non poteva credere a ciò che gli era successo così senza saperne pure come i due presero a frequentarsi quasi ogni venerdì e sabato la portava a Luna Park lei ne andava pazza e lui iniziò ad apprezzare la città quando era con lei si sentiva avvolto da un tepore indescrivibile era in pace con sé e con tutto ciò che lo circondava fortunatamente non gli era mai capitato di dover partire per le sue missioni mentre era in sua compagnia né mai aveva provato alcun'altra sensazione diversa dalla gioia durante il tempo trascorso insieme a lei seppur fosse passato più di un anno da quando i due si erano scontrati lui non sapeva ancora come lei si chiamasse così come la ragazza non era a conoscenza del nome del fidanzato il ragazzo continuava a chiamarla Pretty Hair bei capelli e a lei questo piaceva col passare del tempo il ragazzo scoprì in lei tante piccole paure alle volte soprattutto nel cuore della notte Pretty Hair scoppiava a piangere il suo sguardo sembrava quello di una piccola orfanella abbandonata e lui la consolava accarezzandole i capelli e un'antica cicatrice che le scendeva dalla spalla verso il seno forse era per questo che gli piaceva tanto non per quegli occhi brillanti ma per il senso del bisogno di protezione che la circondava spesso Pretty Hair pareva fingere raccontare piccole verità e minuscole menzogne ciò il ragazzo ricordava certe piccole scimme dalla zampa lesta per i capelli lunghi e fruenti e per i suoi continui pianti il ragazzo la prendeva in giro paragonandola ad un salice lei faceva spalluce affermando che il suo nome ormai era Pretty Hair e non Willow a lui non importava quando lei divertita ballava cantando cose incomprensibili il senso di pace che provava stando con lei giustificava ogni cosa seppur lui avesse studiato a lungo la magia e la simbologia di svariate culture antiche non riuscì mai a comprendere il significato e l'origine delle figure impresse in un medaglione che la ragazza portava sempre al collo la timidezza e l'amore del giovane non fu mai superata dalla curiosità così evitò sempre di chiedere a Pretty Hair il motivo del suo forte legame per quel ciondolo di peltro questo almeno fino a quando una sera i due erano andati a Luna Park Pretty Hair stranamente non camminava a braccetto col ragazzo ma lo precedeva d'improvviso ella si arrestò e si voltò di 180 gradi i suoi occhi erano cambiati sembravano due carboni accesi il volto pallido era divenuto letteralmente esangue le dita affusolate finivano con dieci unghie lunghe e aguzze come i quattro canini che si mostravano nella bocca spalancata tu tu sei un vampiro già e tu sei il cacciatore vero non avevo mai percepito la tua presenza è stato il mio medaglione rispose lei gingillandosi con il disco di peltro poi col suo tono allegro e scintillante riprese lui ha questo potere celare la mia presenza a quelli come te ma perché pretty hair io ti amo lei soghignò seppur non lo mostrasse anche lei ricambiava il sentimento avrebbe dovuto ucciderlo ma si era innamorata della sua preda astento era riuscita a rimandare quel momento gli altri vampiri desideravano la morte dell'unico uomo nella zona che avrebbe potuto impedire loro la conquista della città pretty hair sapeva che sarebbe stata braccata e forse uccisa dai suoi compagni se non avesse agito in quella notte ma avrebbe preferito tradire il suo clan piuttosto che uccidere l'uomo che amava cacciatore io non ho due anni in meno di te bensì quattrocento in più il soprannome che mi hai dato mi piace ma se ti può interessare il mio vero nome è Geike del clan degli Arnert dopo una breve pausa riprese con frandezza glaciale cacciatore io ti devo uccidere il ragazzo era sorpreso i suoi poteri innati gli avrebbero permesso di difendersi ma qualcosa dentro di sé gli impediva di farlo meccanicamente privo di forza estrasse dal giubbotto la spada le sue braccia pesantemente rimasero basse ai lati del corpo leggermente staccate dal busto pareva che nella destra impugnasse una lunga croce la vampira con un balzo gli fu addosso lo morse sul collo ma poco prima che il cacciatore cadesse a terra se ne distaccò e saltò in alto ella scomparve nel buio della notte mentre le lacrime correvano copiose dagli occhi del cacciatore grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.